Sono Anna, un'intera di Maria Grigio, e per questo Natale vi consiglio di regalare L'ombra di Amadeus di Pierdomenico Baccalario. Questo è un libro che racconta quattro storie che sono apparentemente slegate tra di loro, quella di un musicista, di uno scrittore, di un soldato a servizio di Napoleone e di un uomo che ha una strana passione per i cimiteri, ma che in realtà sono unite tutte dalla scomparsa del famoso Mozart e da una misteriosa scatola nera appartenente a Mozart che passerà di mano in mano tra tutti i protagonisti. È un libro che consiglio ai lettori dei 13 anni in su e a chi si interessa di musica classica perché la storia della musica attraversa più volte il libro.